Si può archiviare con questo concerto, anzi no, diciamo che ti ha voglia ancora di stare in giro per le prensas, per le strade di Senegal, assaggiare il vino nuovo, il vino buono. Noi intanto, per capire il discorso, ringraziamo la Prolonco che ci ha voluto fortemente stasera e farei un grande applauso, grande veramente. Poi lascio a te la parola. Parlo io? Io ringrazio invece chi lavora con noi, che sta un po' dietro le quinte, chi smonta, monta, questo impianto. Massimiliano Mariotti, laggiù in fondo alla piazza, il nostro ingegnere del suono, grazie. Sul palco insieme a noi, Corrado, grazie ancora. e tutti i ragazzi insomma che insieme a noi girano la Sardegna e si fanno un mazzo, veramente molto più di noi nell'organizzare tutto. che si dice? Non si può dire, siamo in fascia protesta. Allora, invece un ringraziamento è questo, facciamo un bilancio, quest'anno facciamo 20 anni di Giannas ed è importante ringraziare chi... 20 anni! Insomma, siamo partiti da qui con tanto calore, facciamo 20 anni qui con un calore che è mille volte tanto e un grazie di cuore a Seneghe, ai seneghesi, a chi ci segue da 20 anni, grazie ancora, veramente di cuore, senza di voi, Giannas non sarebbe Giannas. E questo, veramente di tutto cuore, credo di essere, di fare un po' da portavoce di tutti. insomma, per finire, concludiamo questa serata con un ballo, giusto? Facciamo un ballo, sentito la saldanza, chi sa ballare, chi non sa ballare come me, è invitato al divertimento totale. Buon ballo a tutti! Tempista! Agno, su ballo! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti